La piaga degli incidenti sul lavoro interessa anche il territorio a sud di Salerno. Lo scenario è stavolta un'azienda di infissi metallici di Monte Corvino Pugliano, dove un operaio di 61 anni, Gennaro Buono, è rimasto incastrato in un macchinario in movimento. Secondo una prima ricostruzione, l'uomo, mentre svolgeva le sue mansioni, sarebbe stato trascinato da un braccio meccanico utilizzato per lo spostamento di materiali pesanti. I suoi colleghi hanno immediatamente allertato i soccorsi sul luogo dell'incidente, sono accorsi i volontari del VOPI che hanno stabilizzato l'operaio e trasportato in codice rosso all'ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona di Salerno. Qui l'operaio è stato sottoposto ad un dedicato intervento chirurgico per le gravi lesioni riportate nell'incidente. Le sue condizioni di salute sono critiche e la prognosi è riservata. Ad indagare sul grave incidente per ricostruirne punto per punto la dinamica sono i carabinieri della stazione di Monte Corvino Pugliano e della compagnia di battipaglia coordinati questi ultimi dal capitano Samuele Biletti. E sull'incidente interviene anche il primo cittadino di Monte Corvino Pugliano, Alessandro Chiola. In qualità di sindaco, dichiara Chiola sul suo profilo Facebook, non posso non esprimere profondo rammarico per l'incidente sul lavoro che ha coinvolto Gennaro Buono, nostro concittadino rimasto gravemente ferito. Subito dopo aver appreso la notizia ho telefonato alla famiglia di Gennaro per manifestare la mia vicinanza e solidarietà, esprimendo nel contempo tutto il supporto possibile in questo momento difficile. Questo incidente, prosegue il sindaco di Monte Corvino Pugliano, è un doloroso monito sull'importanza della sicurezza sui luoghi di lavoro. Assicurare ambienti di lavoro sicuri è un dovere imprescindibile per proteggere chi ogni giorno contribuisce al sostentamento della propria famiglia. La comunità di Monte Corvino Pugliano, Chiosa, Chiola, si stringe attorno a Gennaro, augurandogli una pronta e completa guarigione.